... Si asterranno dalle cause dal 12 al 20 dicembre prossimo gli avvocati del Foro Nocerino. Pugno duro infatti degli avvocati della Camera Penale Cecchini Guerra del Foro di Nocele Inferiore che all'esito di una partecipata assemblea hanno proclamato l'astenzione. Sul tavolo della discussione il rispetto di accordi inerenti al protocollo di udienza ma più in generale la gestione dei rapporti tra i diversi operatori della giustizia che vede sempre meno valutato il ruolo dell'avvocato. In discussione prima di tutto la gestione delle udienze nel corso delle quali si registrano da parte dei magistrati ripetute e costante violazioni del ruolo e della funzione del difensore stante la costante richiesta di acquisizione degli atti contenuti al fascicolo del PM le richieste di prestare il consenso alla rinnovazione degli atti per il riferimento al COE e l'esame diretto dei testi da parte del giudice motivazioni contestuali rese subito dopo le discussioni anche in procedimenti complessi costanti e con richieste di ridurre e contenere le aringhe difensive il tutto a corollario di un generale atteggiamento sprezzanti nei confronti della categoria.